è stata una scelta coraggiosa a me è venuta voglia di tornare un passo indietro a tutto questo la bellezza di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo qua al crinale è la musica è come se faceva una volta e quel momento lì diventa la firma del disco diciamo perché sono tutti brani che sono nati con semplicità grazie grazie